Amore adesso non vietarmi di tradire, di fare il passo a pochi passi dall'altare Superate le mille presenze per il concerto nella concattedrale di Taranto, il dono delle emozioni, prima edizione del Memorial Vanessa Lopergolo, oltre mille sostenitori della donazione degli organi. Un evento musicale di alto spessore organizzato dal gruppo comunale Aido, associazione italiana Donazione Organi, che ha aperto il nuovo anno nel segno della solidarietà. Hanno aderito al progetto, esibendosi gratuitamente per la causa, gli artisti Graziano Galato, ne accompagnato dalla pianista Fabio Barnaba, Francesco Greco, Bananas Republic, nello scenario dell'incantevole cattedrale, all'ombra della vela di Gioponti, anche i giovanissimi studenti dei cori degli istituti comprensivi Don Bosco Pirandello ha presentato il nostro giornalista Gianmarco Sanzolino. Oggi ero in Piemonte, a Torino, e ho detto, devo essere assolutamente lì, ho detto alla mia compagna, cerchiamo un volo, qualsiasi cosa, devo essere a Taranto a fare questa cosa. È necessario, è necessario perché la causa è una causa molto importante, come sapete, quindi voi siete qui e lo dimostrate. Questo significa che voi avete un grandissimo cuore, quindi io faccio la mia parte ma la facciamo tutti stasera, il nostro piccolo. Anessa è una donna meravigliosa, una donna che io ho avuto la fortuna di avere come sorella. 18 anni fa, all'impromiso, ho scoperto di essere affetta da una malattia terminale, per la quale non esistevano terapie alternative a trafianza. Grazie.